Wewe ragazzi e bentornati, oggi vedremo Dennis Dennis, nuovo ninja ottenibile tramite gli incarichi delle venture, si presenta con lo squarcio del drago, la tempesta di kunai e il fumogeno Il suo vantaggio standard, le eliminazioni hanno una probabilità dell'8% di lasciare un burger Questi burger forniscono 53 salute e 5 vigore base ogni 1 secondo per 3 secondi Mentre come vantaggio comandante le eliminazioni hanno una probabilità del 15% di lasciare un burger Quindi già una probabilità più alta E questi burger forniscono 85 salute e 8 vigore base ogni 1 secondo per 3 secondi Quindi anche sia salute che vigore aumentati rispetto al vantaggio standard Il gameplay su quest'eroe è girato interamente sulle venture e vi spiego anche il motivo Innanzitutto come voi tutti avrete ben notato nelle venture non abbiamo la nostra energia Cioè dobbiamo continuare a colpire zombie per poterla riottenere no? Anche utilizzando il vantaggio squadra del ritorno di fiamma quindi mettendo soldi fossili Diciamo che l'energia non si recupera Con sana anticoccole effettuando le uccisioni comunque sì Però in questo caso ho deciso di utilizzare Dennis vabbè ovviamente per mostrarvelo a tutti Ma in questa modalità avventura ovviamente buildato un po' con i tesori di Barba Blake Per poter ottenere comunque bastoni e cercare comunque di infliggere danno ai mostri della nebbia smasher di alto livello Perché siamo già comunque a una zona all'80-82 Quindi abbiamo bisogno sì di sopravvivenza ma anche comunque di effettuare abbastanza danni per poter uccidere gli zombie no? Quindi i tesori di Barba Blake per me sono perfetti visto che non sono stato tanto fortunato con le armi Oddio ho trovato un DC Blaster ma come tutti voi ben saprete comunque i lanciarazzi è meglio non sprecarli Meglio tenere le armi ragazzi per fare tutti gli incarichi secondari che abbiamo nelle venture Quindi uccisioni con le pistole, mitragliette, mitra, lanciarazzi, armi da mischia Ho visto sfide addirittura a uccidere zombie col piccone quindi preparatevi psicologicamente Dennis ragazzi ovviamente rilasciando i burger che abbiamo visto ci darà comunque sia la salute e sia l'energia Senza andare a sprecare due slot nella squadra Ok in questo video lo stiamo vedendo come primario certo E devo dire che comunque utilizzarlo e avere quella ricarica di energia ogni tanto con i burger da terra non mi dispiace neanche fin troppo Ovviamente è l'unico eroe su cui possiamo contare su questo fatto Cioè avere sia energia e sia vita sprecando solamente un eroe tra virgolette Quindi nelle venture secondo me si adatta veramente veramente bene Poi essendo anche un ninja quindi allo squarcio del drago ha il fumogeno e la tempesta di kunai Possiamo sempre optare per magari buildare che ne so il fumogeno che ci ripristina gli scudi Che anche quello è un eroe pirata quindi va benissimo con i tesori di Barba Blake Le noci di cocco ragazzi le troverete comunque dalle casse Non le troverete più diciamo luttando in giro nella mappa così a caso Ma comunque dai tesori di Barba Blake continuerete a trovarli E non meno di prima tranquilli perché la perk delle noci di cocco funziona su probabilità Quindi non abbiate paura di toglierla e sperimentare Quindi ovviamente dobbiamo comunque avere armi per fare danni Perché comunque dobbiamo uccidere gli zombie per potergli fare droppare i burger no? Questi burger ragazzi sono grigi Adesso penso sia un errore di texture un errore primordiale che verrà magari patchato con le prossime patch Sono abbastanza difficoltosi da vedere le prime volte Una volta che poi ci fate l'occhio li vedete subito Comunque sono proprio degli hamburger che verranno droppati in terra Voi non dovrete far altro che passarci sopra Proprio come funzionano le palle da football che abbiamo visto nel precedente video degli eroi musicali E otterrete direttamente il boost In questo caso comunque il boost è accumulativo per 3 secondi Una volta al secondo per 3 secondi Quindi continuerete a curarvi per 3 volte E anche l'energia continuerà a salirvi per 3 volte Detto proprio papale papale eh Comunque essendo in una zona intermedia diciamo che una classe come il ninja può ancora andare bene Ovviamente dobbiamo già iniziare a contare sui costruttori in squadra ragazzi E' importantissimo comunque gestire al meglio le proprie missioni in questa modalità dove tutto è limitato Dove le nostre risorse sono limitate Non abbiamo tutte le nostre trappole Insomma sapete già come funziona no? Quindi è vero Dennis adesso come primario ci va ancora bene Ma in un futuro utilizzarlo in una build diciamo incentrata su abilità Incentrata su armi verrà ancora più utile Specialmente magari in una zona endgame Portiamoci già avanti mentalmente Specialmente in questa modalità delle venture Ottenere il boost solamente da un eroe Quindi sprecando ovviamente uno solo slot nella nostra squadra di eroi Abbiamo la possibilità di avere energia e vita Che poi è vero con la vita che ci da non riusciremo mai a tancare come possiamo fare con altre vite Parlo di Arlini, Iza, il survivalista insomma conoscete tutti abbastanza bene E non avremo la rigenerazione di energia come ce l'ha da Sara Anticoccole Come ce l'avremo nel nostro build Però se guardiamo nel complesso Avendo tutte queste due cose insieme Secondo me risulta veramente utile Qualora noi vogliamo incrementare sia vita che energia della nostra build di eroi Semplicemente risparmiando sugli eroi che vogliamo mettere nella build Quindi senza andare a sprecare uno slot per il survivalista E un altro con Sara Anticoccole per l'energia Piuttosto sempre che Jonesy di San Valentino Quello che vi ridà sempre l'energia Adesso non mi viene il nome Quindi è un po' un discorso abbastanza complesso Sicuramente in futuro avremo modo di sperimentarlo meglio con altre build Anche perché non sarà il primo e non sarà l'ultimo video comunque sulle venture Sicuramente faremo un video per vedere quali sono le build più efficienti in zone endgame Se ci sarà una zone endgame Tante cose ci sono ancora comunque da scoprire ragazzi Ma una cosa sicuramente certa Dennis non è il nuovo meta nel gioco attuale ecco Comunque sì anche utilizzato come comandante è vero ci cura Ma come avrete notato ho dovuto utilizzare comunque molte volte le noci di cocco In quanto comunque gli zombie ci shottano abbastanza facilmente Quindi non avremo mai la sopravvivenza che abbiamo con altri eroi che vi ho citato prima Ok mi raccomando questo tenetelo sempre bene a mente I burger ragazzi questi burger sono semplicemente dei burger Che dire come le palle da football dell'eroe musicale Anzi magari pure insieme alle palle da football dell'eroe musicale In quel caso magari pure col vantaggio di totalmente rock Quindi palle da football che ci danno il livello critico e anche la vita sì Aumentano velocità d'attacco e danni anche E poi quel burger ogni tanto che ci ripristina salute ed energia sarebbe veramente il top La sto buttando lì così ragazzi Ci tengo sempre comunque a fare quanti più esempi possibili Per comunque cercare di incentivarvi sempre a non perdervi nessun eroe Specialmente poi quelli ottenibili tramite incarico Perché capisco quelli shoppabili tramite oro L'oro comunque è difficile da farmare Anche se comunque pushando molte missioni e perdendo meno tempo diciamo in casa base Si riesce a fare tutto l'oro necessario Però vabbè dal negozio oggetti siete tra virgolette un po' perdonati Ma quando esce un eroe tramite incarico non avete scuse ragazzi Dovete assolutamente prenderlo Anche se all'apparenza magari vi sembra inutile Non è nel vostro stile di gioco O non avete voglia Fate un piccolo sforzo perché in futuro veramente ragazzi potreste non pentirvi E questo è un discorso che ovviamente vale su tutti quanti gli eroi di questo gioco Non solamente in questo esempio su Dennis Quindi ragazzi spero di essere stato abbastanza chiaro Spero soprattutto che il video vi sia piaciuto Ci tengo comunque a ringraziarvi di essere arrivati fino a qui a guardare il video ragazzi Ci tengo a ringraziarvi anche della compagnia che mi avete tenuto ieri live Presto ne arriveranno molte altre Per oggi comunque è tutto Noi ci vediamo con il prossimo episodio E ricorda che puoi supportare la crescita di questo canale Utilizzando il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite Bella bella Ciao Ciao Ciao